Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, mi trovo in questo momento qua alla Lumpur, sono appena arrivato, mi sono trasferito per il momento nella città cinese, il quartiere nella Chinatown, questo un po', ci ho trovato una sorpresa perché qui è tutto un posto con negozi, vendono il momento di tutto, adesso questa è la mia prima impressione, vi faccio vedere quello che vedo anch'io, qualsiasi cosa che vogliate comprare qui sicuramente esiste, anche quello che magari neanche vi immaginate, facciamo un po' un tour, ecco questo è il posto che ho deciso di stare perché mi è sembrato proprio il posto più autentico, i prezzi sono molto bassi, il cambio è 1 a 4, ovvero 1 euro, sono 4 della moneta locale, ecco qui vendono giocate, ecco la strada, praticamente tutto un mercato, tutto un mercato si vende qualsiasi cosa, hanno avuto anche la buona idea di mettere una copertura così, visto anche il clima tropicale ci si ripara dalla pioggia, ecco qui più o meno, ecco questa è la mia impressione, io soggiornerò in questa via, ho prenotato in questa via qua, è un posto autentico, sicuramente non credo di trovare gli italiani, gli italiani si trovano dovunque ma qua non penso proprio questo posto così folcloristico, qui troviamo cucina etnica, di qua sempre si vendono oggettistiche, magliette, borse, qua c'è un cambio, qui fanno tutta un'esposizione di tattoo, chi vuole venire a farsi tattoo può venire qui in Malese, sicuramente li fanno meglio che da altre parti, ecco questa è stata un po' una panoramica, la via continua, qui vendono le Nike originali, girate da questa parte si continua ancora con la vendita di scarpe, ok mi fermo qua, ok ragazzi ciao a tutti rimaniamo aggiornati e ci sentiamo alla prossima con questo tour sulla Malesia.